La prima settimana di lavoro dell'Ovidiana Sulmona si concluderà domani con l'amichevole contro la Rossetana, formazione del Girone A di promozione alle 17.30 a Canzano. Ovviamente non potrà essere un test che darà subito risposta ad entrambe, in quanto sia la squadra di Candidori Felice che i Rossetani hanno cominciato la preparazione lo scorso lunedì. Troppo pochi giorni di allenamento, anche se sarà interessante vedere all'opera i nuovi innesti dei Biancorossi, Aquino, Tuzzi, Pacella, Delgizzi, Tarantino, Safoncavedo, D'Innocenzo, Di Cicco, Allugli e Valdez. Vedremo come il tecnico di Felice farà ruotare i nuovi insieme ai diversi elementi della passata stagione, Cucurullo, De Vincentis, Sciala, Bianchi, Zimei, Delprete, Coletti, Lorenzetti, Federico, Tosti e Baci. E' notevole l'impegno di tutti per guadagnarsi il posto da titolare in una squadra che non nasconde le proprie ambizioni di vertice. Stesso discorso per la Rossetana che, affidata la conduzione tecnica di Sonnino Barnabei, per lui si tratta di un ritorno sulla panchina di Biancazzurri, vuole fare le cose in grande, come dimostrano i tre innesti in un solo colpo del centrocampista Alessandro Mauti dall'Angizia Luco e dal Castelnuovo del difensore Martino Ciminà e dell'attaccante Vincenzo De Rosa, quest'ultimo nella scorsa stagione vice capocannoniere del girone A di promozione con 26 reti. Nei prossimi giorni sono attesi altri innesti di spessore da parte del club del presidente Giuseppe Lamedica. Una Rossetana in fase di costruzione e un'ovidiana già completa che, pur se di fronte in una gara amichevole, ci tengono a fare bella figura per il blasone e le potenzialità di entrambe. La Rossetana in fase di costruzione e le potenzialità di costruzione e le potenzialità di